solo tempo alle famiglie, vogliamo condividere anche l'idea di essere un gruppo di cui tutte le nostre famiglie possono far parte. Infine, tra poco ci troveremo tutti insieme presso l'oratorio femminile per festeggiare e scambiare gli auguri di Natale, grazie a un riflesso organizzato dalla nostra nuova sezione Bikers che ringraziamo. Per tutti i dirigenti e collaboratori ci sarà un piccolo omaggio oltre al libro e per chiudere questo libro ci ha dato l'opportunità di collaborazione col CSI in ecco di organizzare un evento al Cenacolo Francescano il 27 gennaio e interverranno i propri direttori della formazione del CSI nazionale per così illustrarci un po' il contenuto di questo libro e insieme a tutta la nostra comunità, dirigenti, aurora, collaboratori, genitori soprattutto, ma anche educatori e catechisti per condividere un po' una tappa importante di quello che è per il nostro gruppo sportivo ma anche per tutta la nostra comunità la nostra missione, quindi educare cristianamente attraverso lo sport. Quindi ringraziarvi a tutti per la partecipazione, per la collaborazione, a termine della messa ci spostiamo per lo scambio degli auguri per il restauratorio femminile. Grazie ancora a tutti e buon Natale.